Spoken Night Live Spigolature da Achille Campanile Allora mi sveglio di soprassalto e comincio a lambiccarmi il cervello per risolverlo All'interno di una camera da letto c'è un uomo che dorme russando beatamente con Michelangelo Brunelli Ma mi affatico per risolvere questa benedetta crisi, nella speranza che una volta risolta non se ne parlerà più E Ivo De Palma, si parlava della quercia del tasso con la T maiuscola e della quercia del tasso con la T minuscola Biglietti da visita, spigolature da Achille Campanile Ma la finite di rompere, eh? Spoken Night Live Io sono il signor Pericle Fischetti, e lei? Ho trovato una domestica che sopporta le osservazioni senza rispondere male Spoken Night Live Vi aspettiamo È venuto per caso a cercarmi il miliardario americano Rockefeller Oddio, 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 mi sento male